Pierluigi Ghina sosteneva che i terremoti non fossero solo movimenti della crosta terrestre, ma anche eventi di straordinaria carica energetica. Secondo lui, questa energia poteva essere scaricata completamente, proprio come si fa con una valvola che regola la pressione di una camera d'aria. Negli ultimi tempi, questo concetto sembra trovare conferme visibili. In diverse parti del mondo, tra cui in Calabria all'inizio dell'anno e a Napoli, in questi giorni si sono verificati straordinari bagliori nel cielo, immortalati dalle telecamere di sorveglianza proprio nelle zone colpite dal sisma. Fenomeni simili sono stati documentati in passato nei nostri post e ancora oggi la scienza fatica a spiegarli del tutto. Proprio per bilanciare questa energia e prevenire fenomeni sismici, Ghina costruì la valvola antisismica, un dispositivo con il preciso scopo di ristabilire e mantenere l'equilibrio energetico tra l'energia negativa terrestre e quella positiva proveniente dal Sole. Il suo funzionamento permette un flusso armonioso e bilanciato tra queste forze, contribuendo a evitare l'accumulo eccessivo di energia che potrebbe portare a scosse telluriche. Cosa sono questi bagliori? Scariche di energia elettromagnetica. Qualcosa che ancora non comprendiamo. Forse la natura ci sta mostrando un meccanismo che non abbiamo ancora imparato a osservare nel modo giusto. Tu cosa ne pensi? Hai mai visto fenomeni simili? Seguice! Scrivilo nei commenti!